Questo articolo, è facile leggerlo oggi, questo articolo del 5 aprile 2019, qui non c'era il Covid, non c'erano le guerre, e vedete che c'è nel 2023 un punto di domanda come frenata. Qui parliamo di tre cicli economici, il ciclo delle scorte, il ciclo degli investimenti e delle imprese, il ciclo delle scorte ha una durata di 3-5 anni, investimenti 7-11 anni, ciclo immobiliare dai 15 ai 25. Ogni qualvolta questi tre cicli terminano, praticamente coincidono nella loro chiusura di periodo, è accaduta una recessione. Questa è storia, è statistica. Noi diciamo sempre che la storia si ricorre, no? Quindi la storia continua a essere. Quindi basta che noi leggiamo la storia, perché non cambiano tanti fattori. Grazie. Grazie.